buona giornata buona fortuna l'almanacco e l'oroscopo sono arrivati insieme al sottoscritto mauro san francesco di paola quest'oggi 2 aprile i compleanni giuliana desio brava attrice bravissima è nata nel 57 una cantautrice poi anche fatto la conduttrice tv 2 aprile del 78 silvia salemi la frase di oggi è di bertrand russell se fossi un medico descriverei una vacanza a tutti i pazienti che considerano importante il proprio lavoro e su questa riflessione andiamo a seguirli tutti i 12 segni di oggi 2 aprile ariete giornata impegnativa e di grande concentrazione ci sono ottime chance di successo in campo professionale se saprete puntare dritto all'essenziale non lasciatevi depistare dai problemi marginali venere vi aiuta a mantenervi sereni ed ottimisti toro una maggiore coerenza di comportamento e convenzione nelle scelte vi aiutano a fare le mosse giuste nel lavoro ottimi incentivi per chi viaggia e da rapporti con l'estero stabilità in campo amoroso gemelli atmosfera distesa in famiglia imparate a non pretendere troppo dagli altri e ad essere più coerenti ed aperti alla comunicazione in amore liberate tutte le emozioni il partner ha bisogno di sentirvi totalmente sincero miglioramento economico in vista cancro impegnatevi in un'attività che vi riserva soddisfazioni non solo finanziarie cambio di programma è meglio rinviare un viaggio di lavoro una persona influente appoggia le vostre iniziative equilibrio da difendere in amore cercate un punto di mediazione tra la ragione e i sentimenti leone nel lavoro non ponetevi troppe domande passate subito all'azione è la giornata più giusta per essere risoluti e pieni di iniziative chiarite le cose con un familiare eviterete di mettere in moto meccanismi di risentimento gioie negli affetti vergine nel lavoro un esperto vi dà la spinta giusta per prendere una decisione importante rapporti familiari da gestire con tolleranza siate meno impulsivi nel dire la vostra orizzonte sentimentale piuttosto brillante i vostri desideri finalmente stanno per realizzarsi sensazioni nuove da vivere bilancia energie planetarie favorevoli soprattutto in campo sentimentale dove venere lavora nella direzione giusta e promette distensione vivacità e grande carica magnetica nel lavoro preparate il terreno senza fretta il tempo è vostro alleato scorpione successi in società e con vecchi o nuovi amici ottima la forma psicofisica in amore siate concreti e appoggiatevi al partner che è ben disposto ad alleggerirvi da incombenze pratiche sagittario momento positivo per raccogliere i frutti di tutto ciò che avete seminato i pianeti vi aiutano dandovi concretezza lucidità mentale e capacità di adattamento i rapporti sociali risulteranno fluidi gli interessi comuni renderanno il dialogo più assiduo e intenso un capricorno momento evolutivo importante sarete dotati di vitalità straordinaria e avrete molta voglia di cambiare bellissime occasioni se saprete sfruttare le vostre doti migliori di iniziativa di forza di volontà e di spirito pratico in amore lasciatevi ispirare invece dall'intuito acquario il lavoro richiede una spinta innovatrice aggiornatevi in vista degli impegni futuri rompete il ghiaccio con un vecchio amico venere rende tutto facile nei rapporti amorosi siete sicuramente corrisposti qualche discontinuità sarà registrabile nella forma fisica ed intellettuale pesci un imprevisto modifica i vostri piani di lavoro contate sugli appoggi influenti e preparatevi a cambiamenti positivi i rapporti amorosi sono da vivere all'insegna della trasformazione apritevi a nuovi orizzonti e guardate più lontano